Il girone di ritorno si è aperto con risultati inaspettati, grandi sorprese arrivate da diversi campi. In primis l'incredibile rimonta di Brindisi contro Bologna, ma anche Treviso che a pochi secondi dalla fine ruba palla a Brescia e segna il canestro della vittoria. E nella sfida tra prima e ultima della classifica a vincere a sorpresa su Milano è stata Reggio Emilia. Il più grande colpo di scena della giornata appena trascorsa è stata sicuramente la tripla della vittoria scagliata da Kai Bowman che ha vinto così il titolo di MVP e anche di miglior sesto uomo. Lo abbiamo incontrato a Brindisi e ci ha svelato il suo segreto che è stata anche un po' la chiave per la vittoria della sua squadra. Non arrendersi mai. La scena della scena della scena era sicuramente una parte diversa e diversa per me. Il mio schermo di poter rilasciare a me più di poter essere con la famiglia era una cosa diversa per me, ma anche mi ha aiutato a migliorare da dove sono oggi. Per essere in Italia e non essere troppo vicino con la famiglia, quindi è sicuramente il motivo di continuare a continuare a vivere e a continuare a vivere. Un'importante motivazione. Sì, anche tu rappresenti per molti bambini, credo, il sogno di un ragazzo di un ragazzo di una piccola città di giocare in un'importante legge e rilasciare i miei sogni. Non ho mai scoperto a te, credo che sia la maggior cosa. Una volta che hai il tuo pensiero e il tuo obiettivo per ottenere ciò che vuoi, credo che il mondo inizia a lavorare per te e puoi fare le cose che vuoi. Allora che continui a continuare a vivere e essere rispetto a te e a te, il mondo inizia a vivere a te in queste mani. Sì, sempre continui a vivere. Come trovi l'Italian Championship? Sì, sono pronto. Questa è la squadra che vogliamo venire. Allora, qui e qui. Sono proprio pronto per venire. Allora, quello che voglio fare è venire. È un buon ragazzo per la Championship. Grazie. Super sfida da seguire in chiaro su D-Max, canale 52. Questa volta è Treviso contro Tortona.